Ma come si sa, la madre appunto dell'ignoranza è sempre incinta, cioè quella sì che è sempre incinta. Quindi, io non è che dico Ilaria va eliminata, cioè non è una questione tra Ilaria e Cluster, è che mi sembra assurdo che i Cluster, che per me erano i giusti vincitori di X-Factor, escano, perché più bravi di loro non ce n'è. C'è chi vorrebbe essere un artista e c'è chi lo è. I Cluster sono degli artisti e quindi, a parte la mia incattatura e a parte X-Factor, faranno comunque strada. Per cui l'unica cosa che mi fa pensare che forse qualcosa di giusto da qualche parte c'è, è che la televisione va spenta.